E ci proviamo. Possiamo quindi rassicurare tutti i tuoi tifosi che ieri chiedevano Dov'è? Da d'alto. Dite di tenere duro. Sicuramente. Dov'alto è una razza a piave, quindi non molla mai. Mi hanno bloccato la strada. Mi sono fermati. Mi sono saltati fuori in due con la mitraglietta, così. Non ho ucciso nessuno, gli ha fatto. E eri in bici? Dove? In centro con gli altri. Cosa hai combinato? Niente, ho passato un semaforo. No, un semaforo. Un'area pedonale, rossa. Dove solo per i pedoni era rossa. Domenica a mezzogiorno, no? Lunedì a luna o qualsiasi altro giorno. Domenica a mezzogiorno. Cioè mi ha fermato, mi fa un risca i documenti. Non li ho. Ma lo sa che senza documenti lei rischia una multa. Una multa? Ma siamo mati? Sì, una multa. I documenti devono essere sempre con sé. Noi da ora i documenti non li ho per andare fuori in bicicletta. Non mi servono. Si bagnano col sudore i documenti. Venga con noi in caserma. Io? Come venga con noi in caserma infatti? Guarda che no, no, no. Non c'è che il tempo è aperto. No, no, no. C'è nessuno. Venga con noi in caserma. Se no li schiacano una denuncia. Mi fa così. Una denuncia. Poi vado in caserma. Come sei andato in caserma? Scortato! Scortato! Io davanti e i carabinieri dietro. Potete far far dietro Max. Sì, ma no. Insomma quelli che mi vedevano ridevano, penso perché. Poi quando arrivo alla caserma, smonto, prendo la bicicletta, faccio per entrare in caserma con la bicicletta. Mi fa, ma cosa sta facendo? Guarda che questo qua è il mio mezzo di lavoro. Se me la rubano la pagate voi. E non faccia tanto lo spiritoso. Appoggi la bicicletta lì. Se me la rubano pagate voi. E poi entro, entro in caserma. Guarda che erano le comiche. Cioè, neanche nei film succede questa roba qua. Te lo giuro, neanche nei film. E ora mi fa, se siete da lì. Mi mettono su una stanza da solo. Così. Appoggiatola così. Arriva il maresciallo. E fa... Cos'è successo? Che fa ai carabinieri. Maresciallo, questo qua era in bicicletta. Ha passato un semafono rosso in centro panagliano. In bicicletta fa. Si. C'ha il campanello. C'ha il catarifrangente. C'ha lo specchietto. Oh, guarda che ruota ma il pagliazzo qua strano. Così era? Sì, lo so. Ma è vero. Ti posso dare un ruota comunque. È vero. Vedete, è vero. Una cosa mi fa. Lei non è calcolato un ciclista. Lei è un velocipede. Mi fa. Un velocipede? Si. Lei deve solo andare nella pista ciclabile. Si. E se vado via più di 30 all'ora sulla pista ciclabile. È in contravenzione. Non ci può fare. Dio. Che firma tu guarda. No. No. Che siitä ha. PENUTisa. È solo, non ci può chere? PENUTisa. Grazie.